La perfetta assoluta in tutto ciò che si tratta. Il Ferrari del kickboxing. È, semplicemente, il migliore kickboxer di tutto il tempo. Giorgio Petrosian. Ha fatto tutto, ha giocato tutto. Non c'è ancora il campione, il vacante. A me piacerebbe sicuramente combattere per il titolo. È certo che mi fa piacere portare a casa la cintura. Sì, sono tutti i più forti i 70 kg. Sono ormai in One Championship. Da una parte è normale perché One Championship è l'organizzazione più grande al mondo. e quindi adesso tutti gli atleti più forti nella categoria 70 kg. Quindi a me fa piacere. Cosa ne penso? Tutti vogliono combattere contro di me. Da una parte è normale, sono l'uomo da battere. A me fa piacere. Prima o poi, ovviamente, incontrerò con tutti. Sì, non lo so quanto tempo che non perdo. Però non è che conto gli anni. A me assolutamente non spaventa una perdita. Fa parte del gioco. Sappiamo benissimo che deve essere un vincitore. Io mi preparo al massimo e che vinca il migliore. I miei obiettivi nel 2021. Intanto il mio primo obiettivo è il 26 febbraio di portare a casa la vittoria. E ovviamente nel 2021 vorrei fare il titolo di One Championship. Sì, il mio prossimo incontro è una rivincita. Conosco il mio avversario. È molto forte. Siamo cresciuti tutti e due. Siamo due esperti. Lui è un avversario tosto. Ho incontrato 9 anni fa a un torneo in semifinale. Mi ricordo già quella volta che era duro. Assolutamente anche David Chiri ha migliorato. Ho visto tanti suoi incontri. Lui combatteva in un altro circuito. Ha battuto gente forte. Ovviamente mi sono migliorato io. E anche lui è migliorato. Giorgio di adesso è più esperto. Ho più esperienza. Sicuramente fisicamente sono più forte. E la voglia di vincere è sempre rimasto uguale. Quindi diciamo che sono migliorato. Cosa ci posso dire? Sono abbastanza... Sono molto tecnico. Giorgio Petrosian mostra perché è il migliore. Bisogna vedere sul ring come vanno le cose. Non è che posso dire che sono i più forti di lui. Bisogna fare il match, vedere chi vince e il migliore. Io mi sono preparato al massimo. So di poterlo vincere. Quindi credo in me stesso. Con le parole possiamo fare tutto. Però alla fine dobbiamo vederci sul ring. Quindi non rispondo niente alle sue provocazioni. Ci vediamo sul ring e parleranno i puni.